Gara molto sentita dalle due tifoserie, animi ulteriormente surriscaldati dalle dichiarazioni degli allenatori. Gran clima! Chi la spunterà lo scopriremo tra poco. Torna protagonista il grande calcio, targato EA Sports. La nostra squadra è già schierata in campo, pronta a darsi battaglia per regalarci un grande spettacolo. Grazie a tutti voi che ci state per seguire. Con me come sempre c'è Leli Adani, Serie A team, che si prende la ribalta con questo incontro. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Un saluto a te, Pier, e agli amici a casa. Ne ho viste commentate tante di partite, ma ogni volta è come se fosse la prima. Non vedo l'ora di iniziare. Ottima la copertura! Diamo un'occhiata alla formazione titolare dei padroni di casa. In grafica, ecco la formazione ospite. Tra i pali c'è Svilar. In difesa si affidera Gianluca Mancini, con Smalling. Di bala insieme al Sharawi, largo sulla fascia. L'attacco è tutto sulle spalle di Romelu Lukaku. Allontana il pallone. Ottimo intervento. Hanno perso palla. Inarrestabile Lukaku. Non si è reso. Alla fine ha avuto ragione lui. Pasalic. De Cattelare. Pasalic. 1-0. C'è il gol del vantaggio. Eccolo. Il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. L'ha poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Il difensore blocca bene il cross. Cristante. Occhio a Di Bala. Ci sono metri per Di Bala. Efficace la pressione della difesa. Recupero del pallone. Può contare sull'aiuto dei propri compagni. Copp Miners. La mette in area. La risolve Mancini. Cerca la porta. Palla ancora lì. Se la cavano. Si riprenderà dunque con un faro laterale. L'arbitro applica il vantaggio e lascia giocare. Lukaku. Guadagnano terreno. Occhio. Nessun problema per la difesa che recupera. Di Bala. Di Bala. L'appoggio per Lorenzo Pellegrini. Cristante. Gioca la palla dietro. E con questa rete si sono fatti raggiungere. Il risultato adesso è ancora in bilico. Replay questo che ci permette di apprezzare meglio il gol. Bella la giocata lì indietro del compagno. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura. E ha trovato tempo e spazio per battere a rete. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol dell'1-1. Scalvini. Teon Coppmeiners. Recupera la palla con un contrasto deciso ma corretto. Faraone Asciaraui. Possono passare in vantaggio. Una parata incredibile. Palla che resta in campo. Ha dovuto impegnarsi qui. Zappacosta. classo al centro. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Qui possiamo rivedere l'azione precedente dalla quale è nato il gol. Ovviamente da diversa inquadratura. la gioca profonda. Coppmeiners. pareggio che regge. Provano con il tiki-taka ad aprirsi un barco. Non si fa sorprendere. calcio d'angolo battuto. Palla in mezzo. Intervento decisivo. Intervento efficace a liberare. Ecco Zappacosta. Lascia partire il traversone. Il gioco prosegue. Aumentano l'intensità del pressing. Palla che è terminata sul fondo. Si ripartirà con la rimessa. Leandro Paredes. Palla per El-Sharawi. Faraone El-Sharawi. Paredes. Aspetta il momento giusto per colpire. Arbitro che manda tutti negli sfogliatoi. Di Balla protagonista assoluto nei primi 45 minuti. Si è dato parecchio da fare. Tra l'altro firmando il gol che ha permesso ai suoi di chiudere in parità il primo tempo. Squadra di nuovo in campo per il secondo tempo. Prima frazione che si è chiusa sul risultato di parità. Gara apertissima. Palla che finisce tra le braccia del portiere. Tiro non potente ma la parata è comunque ottima. Pasalic. La gira su Scamacca. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. E c'è la rete. Mettono di nuovo la freccia e tornano a condurre. Ecco qua la fotografia dell'azione del gol. Ha avuto la forza di sottrarsi alla marcatura avversaria e di concludere imparabilmente a rete. Il punteggio adesso è di 2 a 1. L'arbitro non interrompe c'è norma del vantaggio. Palla che finisce sul fondo era una buona possibilità da ottima posizione. recupera una palla. Gianluca Scamacca. Ha provato a piazzare senza però inquadrare la porta. Capita di sbagliare. Bisogna riprovarci. Non deve lasciarsi abbattere da questo errore. Lukaku. Pallonetto. Vediamo se arriva una sanzione. Arriva il giallo per questo intervento. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. sale con il pallone. Sfugge qui al difensore. E' un saraui! E c'è la traversa! Si rimane come prima. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Cristante. Possono trovare il gol del pari. Attenzione! Conclusione d'interno e palla non lontana dal palo. Le immagini della goal line technology confermano la prima impressione e cioè il pallone non è entrato del tutto e dunque niente gol. Non era una chiamata difficile giusto comunque verificare a scanso di equivoci. gioco fermo. L'arbitro ha visto il fuorigioco. C'è un cambio dunque. Con il numero 22 Matteo Ruggeri E' un pregato con il numero 33 Hans Faddeboer Aumenta la pressione. Contrasto troppo deciso l'arbitro fischia la punizione. Paredes Pellegrini può andare. Ecco De Ron. Palla per Scamacca. Intervento falloso interrotturazione interessante l'arbitro potrebbe anche prendere provvedimenti. C'è il cartellino giallo ed è per Smalling. Dovrà stare attento ora il prossimo è fuori. più di più di più. Brian Cristante Cristante può avanzare lungo l'auto Cristante Romelu Lukaku Rivediamo il gol Pierre guarda la meta alle spalle del portiere con questa conclusione di testa bellissimo le due squadre sono di nuovo in parità davvero una partita che regala emozioni Zappacosta ancora un quarto d'ora per l'esperanza delle due squadre Brian Cristante occhio a Dybala attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio ha sfonderato un super intervento qui questa parata che è tutta istinto la fanno solo i numeri uno riconquista un pallone importante 600 secondi da giocare ancora attacca la testa bassa a caccia della vittoria Lukman intervento volante vogliono il gol del vantaggio arrivano i saltatori è un corner interessante hanno un'altra chance da calcio all'angolo si esalta per il gesto di prima ha sbrogliato una situazione delicatissima occhio al tiro della bandierina la spazza via adottano una tattica molto prudente fin qui controlla Deca e telare brutto passaggio e pallone regalato vuole l'imbucata si salva con un intervento prodigioso il portiere una frazione di secondo ha reagito in una frazione di secondo ci sarà una sostituzione pallone in mezzo pericolo scampato con questo pallone ecco Zappacosta riesce a resistere alla carica suggerimento interessante nell'area avversaria ha optato per la potenza sfiorando il palo entrata decisa manca poco tempo hanno un'ultima occasione per vincerla parità allo scadere del novantesimo